L'idea di un articolato piano strategico con una rotta ben precisa, valorizzare e promuovere la città eterna come meta indiscussa del turismo globale. Questo l'obiettivo di Futuroma, percorso partecipato e condiviso che mira a ricercare strumenti validi capaci di dare vita a un turismo di qualità. Roma è arte, storia, cultura, un vero e proprio museo a cielo aperto. Tuttavia questo non basta se a mancare sono i servizi primari, a cominciare dai trasporti. Istituzioni, enti, imprenditori e commercianti con il contributo scientifico del mondo accademico e delle università, del settore bancario e di altre rappresentanze discuteranno di quelle che sono le esigenze della capitale, promuovendo nuove idee destinate a dare forma al nuovo piano strategico per Roma 2019-2025. Attraverso un'analisi lucida già avviata nel 2017 saranno analizzate e migliorate le più svariate forme di turismo presenti nella città eterna, da quello cinese a quello sportivo. Alla presentazione non è mancato l'intervento dell'assessore capitolino Carlo Cafarotti. Siamo qui per dialogare con chi accoglie i visitatori, li ospita, li ristora, li guida alla scoperta di una bellezza che non ha paragoni e per mostrarne il volto migliore.